bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono black knight scusate e oggi siamo qui in un nuovo episodio della serie dei trucchi di clash royale allora in questo video faremo il trucco quello che deve aprire prima il baule a maggio poi due polli d'argento poi il baule della corona e poi gli altri due baule d'argento nell'ultimo bolle d'argento troveremo la leggendaria ragazzi scusate ma mi è andata via la voce un po scusate mi apriamo i baule di omaggio ariete mortaio fino a qui niente e va bene ora volem che è utile io lo uso il pazzo guardate eccolo due polli d'argento apriamo che i baule della scuola ok ok però niente penutivo volo d'argento ok ho visto che il ragazzo facciamo così poi apre l'ultimo niente non c'è la leggendaria qualche fake guarda che fake ragazzi un fake assurdo ma che schifo proprio andiamo a farci una battaglia allora siamo contro livello 8 fino a qui va tutto bene barbari scelti ha messo la gelo e ha messo anche gli sgherri ma i barbari scelti fanno danno potrei mettere gli sgherri anch'io la palla di fuoco ok ragazzi siamo in vantaggio noi mongolfiera torri infernale non ha dato nemmeno il colpo grosso ha dato solo la bomba che culo ragazzi vai metti lorda no non muore pensavo che vorrei peccato dovrò potenziarlo cioè dovrò migliorarlo di livello no no ragazzi no questa no questa non me la dovevi fare ora la mia furia si scatenerà su di te e ti distruggerà scarica pronta ragazzi ok te lo meritavi questo ragazzi non se lo meritava ha voluto mettere il giorno con due torri e ragazzi le risposte qui ci stanno alla grande sgherri abbiamo fatto due torri ragazzi tanta roba e lui ce l'ha fatta il zero ok ragazzi ok ragazzi bauna d'argento ok ragazzi andiamo a vedere una roba google andiamo a vedere i bauli stazza royal prima ho messo millepiedi in casa perché c'erano presente quei millepiedi e ho fatto una ricerca i millepiedi che entrano in casa ho fatto una ricerca e niente diceva che praticamente ragazzi cosa diceva non mi ricordo più ah si ecco dicevo che erano innocui per l'uomo ma questo non c'entra niente comunque dicevano che erano innocui per l'uomo i nove per l'uomo e mordevano l'uomo con il veleno solo quando si sentivano aggrediti ma il loro morso è molto simile a quello di un ape quindi non fa niente ragazzi allora qui vediamo un po' il prossimo è il baule d'argento questo qui poi verrà il baule d'oro vediamo se è vero tra nove ragazzi tra nove bauli verrà il baule magico ok ragazzi dovrò preparare un free chest opening ovvero un chest opening gratis ok ragazzi andiamo su clash royale allora primo un altro baule d'argento e poi un baule d'oro andiamo a vedere scarica pronta direi che abbiamo fatto molto bilano noi direi ok ci sono difesi sono difesi con il migliaccio ok scusate ancora per la voce non ci posso far niente ragazzi ma questo è a livello 8 ha domatore a livello 7 quando dovrebbe averla a livello 6 o 5 non 7 vabbò cavolo ragazzi due barbari scendi non sono stati colpiti ok potremmo mettere il domatore di qua un colpo due colpi bravo bravo barbari scendi di qua uh ci difendono pure dal domatore buonissima come cosa palla di fuoco e ci facciamo quella torre cioè non ci facciamo ma facciamo quella torre la distruggiamo la disintrighiamo la disintrighiamo la non mi viene la parola ragazzi ragazzi non ci riesco inutile oh due torre fatte e abbiamo vinto ragazzi e abbiamo vinto ma dobbiamo farne un'altra per vedere se funziona quel metodo baule d'argento ok ora dovrebbe apparire il baule d'oro andiamo a fare una 2 vs 2 perchè non voglio perdere il trofeo ok livello 8 contro livello 8 buono dobbiamo vincerla secondo me ci possiamo anche riuscire voilà che bella fireball ragazzi che fireball oh il mio compagno non mi difende difendi che compagno che palle che compagno non mi difende che stupido non si crede voilà abbiamo perso come perdere raga ok taglio il video finchè non vincolo l'altra partita ok ragazzi dai ok ragazzi sto leggendo scusate ma è il telefono scusate comunque vediamo un po' baule d'oro allora è vero che funziona è vero non ci avrei mai creduto ragazzi ma è vero baule d'oro allora ce l'apriamo insieme andiamo niente ieri speciali no proprio ieri speciali ma ci possiamo aprire un baule d'oro non aprire ma sbloccare un baule d'oro e niente ragazzi il video è terminato e ci vediamo al prossimo video ciao